Nel mente però attenzione perché oltre a far la partita effettivamente Dunna sta giocando. Giocare tre partiti in contemporanea è una grande sfida, è molto tosto. Quest'anno parteciperemo al The Brawl da casa nostra. Ognuno di noi streamerà da casa. Questa sera le camere di quattro campioni di Hudson diventano un'infocata arena di gioco. Ecco qua Flick, Bola Motte. Lo Swagher vince il game. Swaghermeist ha vinto contro Middonald. Ma con il suo Murlo Pala va a distruggere. Una vittoria molto più importante del Swagher. Accordo tra gentiluomi. Cambia completamente il mindset e soprattutto le giocate. Vince l'edizione 2020 del Red Bull Debron la fortissima Middonald. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.